pollicioni verdi benvenuti in questa nuova video pillola tratta dal besprato academy planner se non sai che cos'è il besprato academy planner beh vai nel link in descrizione perché si tratta dello strumento applicativo del metodo besprato per avere un prato sano forte bello tutto l'anno siamo alla settimana numero 33 ci avviamo verso la fine di agosto un periodo veramente molto pericoloso per la salute del prato da una parte il manto erboso ha accumulato tutti gli stress dell'estate ha consumato i nutrimenti presenti nel suolo e dall'altra parte non possiamo ancora intervenire con le concimazioni tipiche della stagione autunnale è una fase di transizione una fase critica nella quale dobbiamo porre la massima attenzione su tre aspetti particolari il primo riguarda non far mancare quei nutrimenti che potrebbero essere esauriti nel suolo il secondo richiede un'azione di stimolo di aiuto nel sostenere le attività metabolitiche il terzo aspetto sul quale focalizzarci è quello di non far mancare la protezione contro le malattie fungine il cui rischio è ancora veramente molto elevato nella descrizione di questo video troverai un link di approfondimento nel quale sono descritti tutti i trattamenti da fare all'interno dell'approfondimento troverai degli esempi di prodotti da utilizzare completi dei relativi dosaggi e concludiamo come al solito con i consigli di micio micione la mascotte di best prato consigli che andiamo a prendere a leggere direttamente dall'academy planner micio micione ci ricorda che l'ingiallimento diffuso in tutto il prato a fine estate potrebbe essere il segnale della mancanza di azoto grazie per la visione